Il master accreditato Aspore in gestione e sviluppo delle risorse umane di Gemma Business School rappresenta un'eccellenza nel panorama della formazione professionale. Il nostro programma offre una formazione completa ed aggiornata combinando teoria e pratica per preparare gli allievi ad affrontare le sfide reali del mondo del lavoro. Con un approccio innovativo ed interattivo il master copre tutte le aree fondamentali delle risorse umane dalla selezione del personale allo sviluppo alla formazione fino all'amministrazione del personale. La crescita professionale dei nostri allievi e delle nostre allieve inizia dai primi giorni di master con il supporto di un team di coach e di psicologi del lavoro che li aiutano a delineare un piano di carriera personalizzato basato sulle proprie attitudini e sui propri talenti. Grazie al nostro eccellente servizio di placement e al prestigioso network aziendale garantiamo sia un project work consulenziale che un inserimento in azienda. Frequentare il master di Gemma Business School quindi significa entrare a far parte di una comunità d'eccellenza ed ottenere un titolo prestigioso. In Gemma Business School crediamo fortemente nel talento, illuminiamo il talento dei nostri allievi e delle nostre allieve perché le persone felici brillano.